Mentre Maria e Giuseppe si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Quella notte è una luce, anzi tante luci e tanto pubblico per il presepe vivente in musica e versi aquilani della Proloco di Coppito. L'auditorium del Parco del Castello dell'Aquila ha reso omaggio allo sforzo delle decine di partecipanti e del coro che hanno omaggiato la Natività con i migliori versi del repertorio poetico aquilano. Palpabile l'emozione e la soddisfazione della Presidente della Proloco di Coppito, Marina Marinucci. È stata una bellissima giornata, abbiamo sperimentato questa prima edizione qui all'Aquila, abbiamo voluto regalare una Natività in musica e versi alla città dell'Aquila, alla nostra città. Credo che sia andato molto bene, dentro all'auditorium, l'auditorium era strapieno di gente, grandi applausi, gli artisti tutti bravi, ma anche fuori abbiamo riprodotto qui davanti al castello, abbiamo riprodotto un po' le scene di vita quotidiana di Bethlehem, quindi anche un po' con gli antichi mestieri, i mestieri di un tempo e anche offrendo poi a tutti gli spettatori un po' di cose particolari, dalla polenta maritata alle pizze fritte che sono prodotti diciamo piatti tipici locali, fagioli e cotiche, un po' di vin brulee, insomma abbiamo voluto riprodurre un po' un clima ad altri tempi qui in questa giornata di festa e vorrei approfittare, vorremmo approfittare come prologo per dare gli auguri a tutti gli aquilani.